Musica Benvenuti in questo nuovo video Allora oggi è il 20 dicembre Quindi è il momento di aprire La casolina numero 20 Adesso veramente sta per finire Il calendario dell'avvento, tra l'altro guardate L'unico calendario che ha il 25 Oh oh sono scema io Ma io ero abituata a piccola che arrivavano tutti comunque Fino al 24 i calendari, non fino al 25 E si è aperto anche il 12 Vabbè ragazzi guardate qua come si apre Questi cosi Questa è molto simile a quella di ieri È dorata glitterata Se si apre Se si mette a fuoco Troppo glitter È dorata glitterata con il fiocco nero Dai carina, peccato si vede un po' di colla Però è carina dai Mi piace, non è male Dorata glitterata anche se No più bronzo Bronzo direi più che dorata Sì bronzo E oggi c'è ancora attaccatura argentata Nasse in oro Allora si vede che è fatto apposta Perché una volta ok Due volte sarà fatta apposta Suppongo Dai io la trovo molto carina Voi fatemi sapere se vi piace Se la vostra preferita è sempre quella Se è cambiata E noi ci vediamo domani con la prossima pallina Ciao Godzilla Sì lì 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 Sì lì lì